In fondatezza della notizia di reato, con questa formula pienamente assolutoria, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico di alcuni dipendenti del Comune di Seravezza, indagati nei primi mesi dell'anno per presunti abusi nella gestione delle pause in orario di lavoro. Il caso dei festini e delle merende in comune era scoppiato a marzo dopo l'esposto mirato da parte di una fonte anonima. Cinque addetti agli uffici e due funzionari, sette dei 70 dipendenti comunali, erano stati ripresi dalle telecamere nascosti dai carabinieri negli uffici dal 12 gennaio al 10 febbraio. Dalle prime indagini in un mese avevano fatto pause senza timbrare, dunque regolarmente pagati, chi per un totale di due ore e 14 minuti e chi addirittura per oltre 11 ore di pausa complessive, caffè, tè, pasticcini e lunghe chiacchiere in compagnia. Ma le memorie difensive raccolte nel frattempo dagli indagati hanno ridimensionato sensibilmente le ore di pausa inizialmente registrate. Per questo, secondo il GIP, gli indizi raccolti non sono idonei a reggere a processo l'accusa di truffa ai danni dello Stato e interruzione di pubblico servizio. Pause sì, quindi, ma nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti. Soddisfatto per l'archiviazione, il sindaco Riccardo Tarabella, che sottolinea, sono stati mesi molto tristi e difficili, non solo per gli indagati, ma per tutti i dipendenti del comune di Seravezza e per noi amministratori. Un danno di immagine notevole per un comune che nel tempo ha saputo dimostrarsi sano e virtuoso, con punte di eccellenza proprio nella gestione delle risorse e nella lotta agli sprechi. Adesso, conclude il sindaco, lasciamoci alle spalle questa brutta vicenda.